La colletta è un grande gesto di popolo. Su Abruzzo e Molisi abbiamo circa 5.000 volontari che ogni anno si dedicano a questo, in 430 circa punti vendita coperti. In ogni punto vendita c'è un capo equip, così lo chiamiamo, che guida il gruppo dei volontari e che organizza il gesto che consiste nell'invitare le persone che si recano nei supermercati a comprare, a fare donazioni per la colletta e poi i prodotti vengono inscatolati e rendi contati e portati nei magazzini di competenza del banco. Ma soprattutto va detto che questi 5.000 volontari in realtà saranno tutti in un clima di festa, perché la colletta è una grande festa e si fa in tutta Italia, quindi nello stesso momento, non solo nelle nostre due regioni, ma in tutta Italia abbiamo tantissime persone che fanno la stessa cosa e vedere questo ha di per sé un valore fortemente educativo. Verranno indicati quali prodotti sono per... Naturalmente abbiamo un volantino che li indica e sono i prodotti che più difficilmente reperiamo, olio o alimenti per l'infanzia, ma poi saranno i volontari stessi a incontrare le persone e a dare queste informazioni.